beh a tutti ragazzi io sono lucafire99 e oggi siamo di nuovo su brawl stars per fare la lega delle stelle signore e signori mettete un bel pollicione all'insù attivate la campanella e iscrivetevi e nello shop è uscita da l'abilità stradale di nita corso di sberle e io l'ho acquistata perché così siamo letteralmente oppi adesso si va subito a fare la lega delle stelle ok footbrawl uno stu tattico ci potrebbe essere però livello 1 quindi vado subito dire il primo anche perché poi pure maxato però beh anche anche una vita ci starebbe bene però no in realtà ci andrebbe bene trollando un po una bella una bella bibi 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 ci starebbe molto bene non ce l'ho provita no 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 devo proprio dire io provisco frank provisco frank mi dispiace ok allora quindi voglio ora devo alla prossima sono io dopo sono io mi scelgo la bibi bibi la bibi è mia ok bibi tattica e si va a posto scelta ok ragazzi non so se c'è ancora sto bug però c'era un aggiornamento quindi penso che l'hanno risolto e però non so se c'è ancora non selezionati gadget forse le sa proprio che si possono perché sennò vi fa crashare e quindi se non vuole la partire e poi vi fa pure perdere i trofei allora si carica bene la mazza mi detto qua io dietro qui tattico ma bene non era proibita no attenzione tattico ok dai chiamogli una bella lezione a questo bull grande maxin attenzione che giocata magnifica che giocata magnifica che giocata magnifica non fate le mot power league e per i seri no sbagliato e almeno a buttare proprio in faccia la palla annazione ok mandamela mai che ci sono loro che ci sono pure io quindi io vado subito a pucino invece devo stare in bene save attenzione altrimenti attenzione 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 ottenzione che si è aperto a drunkly ma che se la ricarica ora che Ah ma sì che non c'è che non c'è perché non potevo aiutare perché sono da vicino sono da lontano infatti no no edgar 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 ha poca vita non è almeno oltre al livello 5 tipo 6 non so se può servire no le bombette apposta ok levato il bull basta che pensano loro cioè basta che ci pensano loro vai è finita di rimanere sulla difesa ok ando lì qui aspetto alla maxine magari prima di pushare no ora la butto via no cosa ho fatto vai ma cosa hai fatto edgar madonna cosa hai fatto edgar ci hai buttato una partita così e vabbè però è troppo tattica e vabbè ok diventati andate maxine basta che la butti avanti maxine dannazione se c'è che però spona non è vero che è partita buttata per fortuna che era il primo round perché se no veramente non lo so non lo so minchia ma quello là era proprio un round buttato ma era bellissimo da un'azione da un'azione sotteremo il gadget di bibi attenzione la butto via così tattica spingo pure via il bull la passa perché cerco di recuperare vita perché non mi ha tirato spiegatemelo vabbè maxine vabbè la super non lo so che ne ho tirato bella però la palla ce l'hanno loro ok maxine passa maxine vabbè vai edgar push ammazzo perché quella cosa ok aiutate con i danni tantissimo aiutati di quanto l'ho missato raga e ancora siamo la sua perché non possiamo comunicare quindi questo è fatto cioè se solo ti mette uno al chat e il gioco mi mette con le cuffie inizia a parlare ok mi rallenta bea bea è troppo forte dannazione che team che c'è per la racconto come contro contro beh ok andiamo a questa parte aspetto la maxine butto la pasta a parte vai 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 passa prendo io passo passo alla maxine ciò che di caso era un po' di danni ma niente no maxine maxine bibi non era buona bibi non era buona bibi bibi lo sceglierebbe però non c'ho proprio pensato però pure quello che non mi spacco potevo mettere il primo infatti ma non c'ho fatto male ma non c'ho fatto male vai ma cosa fai vai bravo che hai buscito la bea bravo c'è stato un grosso problema davanti vai io ci sono grande si vince pure sto round mi sa yes no io per aspettare molto ci stava l'emoji ci stava ok ragazzi madonna chi la cosa vince perché devo salire di rank tantissimo perché c'è mi sa che due battiti perché la power league è veramente difficile siamo già sette minuti mi sa che due ne dobbiamo fare di power league per forza ok fk rfk prendo mettetevi davanti vabbè perché 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 non è meno male che non è rotto davanti perché se no abbiamo perso bravo 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 via tu non c'entri nulla amico non è vero che culo che culo non è vero non è vero edka ma tu perché mi 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 vai ma da che super sprecata che non è sprecata l'ho preso a caso l'ho preso a caso l'ho preso l'ho preso a caso vai dannazzo lontani bravo edka bravo dobbiamo rimanere dietro sembra che mi di ricaricare ok spinto via recuperare vita mi sono tolto l'ala balanzione bisogna giocarsi la tattica ok ok aspetta vai grande edgar maxi mi serve il tuo aiuto maxin volevi usarmi la super addosso e invece no e invece l'ho fregato bisogna fare un bel danno purtroppo che aspetta ok no no vado dietro vado dietro vado dietro bisogna rimanere safe ok 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 via no però maxi no sta andando a rallentare bene 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 non è tanto veloce è bull quindi si può superare tanto ok nessuno buttata via ok ho recuperato non ho recuperato io l'ho soltanto passato ma vabbè persa 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 non è usato la super via se è pareggio che succede si fa un altro round si fa un altro round si fa un altro round serio oppure pareggio così non sto capendo io si fa un altro round oddio non lo sarei mai aspetta vabbè allora ragazzi mi sa che sotto la nostra partita perché sennò il video dura 48 ore anzi sai che vi dico ne facciamo pure un'altra roba così vi accontentiamo mi ha fatto 2600 oddio ora Bibi in realtà è buona perché comunque sbalzo via che avversari bravissima Maxine ok tolgo la butto da quella parte cerco di causare danni e non ce l'ho fatta perché Bibi ci mette un po' di tempo a fare il colpo Maxine ha sprecato la super così ok dai ok buono che gliel'ho pure tolta brava Maxine guido perché non mi devo far prendere ma lo faccio proprio così guarda e ok no vabbè ok a posto a posto a posto ok edgar 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 passa maxine non passare maxine cosa ma devo scrivere maxine maxine ho troppo poca vita maxine che rimango un attimo in difesa vengono 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 aiutare ok ok cosa fa ah che l'ha passata da là brava edgar fai ovunque hai sbalzato via fai sì sì andiamo a berlino peppe andiamo a berlino sì andiamo a berlino peppe andiamo a berlino dio madò meritatissima meritatissima dai raga ne faccio per un'altra raga meritatissima pure ok rapina qui si va di ringhio 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 in posto che mi mettono jessi non lo so in realtà metto ambro proprio il biscotto ringhio metto ambro perché ma perché non sono i leader vabbè metto ambro allora ci va metto ringhio ok mi metto mi metto ringhio a me non minchia non ho video pure ambro spai non so però no è poco quindi no confermo ringhio giù non ce l'ho 3 ringhio mi metto mettere la pam oppure leon almeno che ce l'ho al 7 almeno leon almeno che ce l'ho al 7 vabbè selezionare rutto almeno che non c'è ancora il bug e yolo proprio alla fine il ringhio è buono però me lo devo alzare però non so perché 2 3 punti però non so se dargli a stu al ringhio quindi sicuramente il dynamite può aiutare jesse è molto tattico infatti si sono già occupati ok vado giù ad attaccare push tattico torno indietro ok un pochino hai aiutato vai di bombone dai signori ci sto giocando molto bene molto bene stiamo giocando vai no no stiamo sulla safe vai ma che push che push che push che push torno indietro va preso 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 ancora dai ragazzi ragazzi ma che team che team ma se la vincevo così c'è proprio velocemente wow c'è sta pure bene sono 17 minuti di dividi anche più scommetto madò come è giocata bene come è giocata bene ok ok oddio le stracciate ok ok bisogna giocarsi ora safe però il push ci deve essere sempre perché però comunque nonostante voi non siamo in difesa oppure siamo in difesa però il push ci può aiutare quindi io adesso push vi metto tutto povero appino così e non ho neanche vabbè una volta per scendere anche 2 minuti a 45 si possono sicuramente recuperare possono sicuramente e per un pochino se me la riesco a giocare bene questo minuto ok signore e signori si porta a casa la partita tutti quanti abbiamo un pochino quanto ho avanzato per il silver raga voglio fare un contenuto pieno raga si va ancora a fare un'altra partita infatti riscontriamo questa emoji e cassino vediamo un pochino che cosa troviamo di bello punti di gioia per ambo ragazzi posso pure inserire anche se penso di noi infatti però manca poco invece per ringhi vabbè volevo vedere faccio la pazzina e proprio faccio un'altra perché dobbiamo esagerare di un footbrawl stu ce l'ho meglio meglio perché non volevo footbrawl quale cos'esce cosa sta succedendo perché mi sa che si è bancato il gioco ragazzi scusate ma torno subito un po' Grazie a tutti.